Chiudiamo la parentesi dedicata al Giro d'Italia con l'ultimo degli eventi in calendario realizzato dal Comune di Belluno, in questo caso in collaborazione con Castione. Nella giornata del 23 maggio ci sono due appuntamenti importanti, in serata Piazza Duomo prenderà vita con un'anticipazione di A Bocca Aperta, il percorso enogastronomico errante, itinerante organizzato lo scorso anno dal Comune di Belluno che troverà nuovamente posto tra gli scorci della nostra città e quella che vedremo il 23 maggio invece sarà un'anticipazione, una specie di cena di gala per gli addetti ai lavoro e gli addetti stampa per salutare degnamente il Giro d'Italia. Nella stessa giornata che precede il passaggio del Giro da Piazza Martiri Belluno al Colle delle Nevegalle, preposti alla festa sono tutti gli abitanti e gli organizzatori della Proloco di Castione, infatti a loro è affidata appunto la vigilia del Giro d'Italia e allora ecco gli appuntamenti che andranno a susseguirsi durante tutta la giornata. E allora Castione si prepara ad accogliere il Giro d'Italia, lunedì 23 maggio, pensiamo che il centro del Giro sarà Castione. Noi come Proloco Pieve Castionesi abbiamo avuto dal Comune la richiesta di organizzare una grande festa ed è quello che la neonata Proloco si è messa in moto per gestire ed è una festa che comincerà il pomeriggio a partire già dalle 16.30 con animazione per bambini e ragazzi a cura dell'associazione Bamba Bambin e di Dino Maraga e a cura dell'associazione Magic Dolomiti che svolgerà giochi di magia e intrattenimento per il pubblico e per i presenti. Comunque la festa la andremo poi a scaldare con il primo gruppo che suonerà alle 18.30, avremo il primo concerto dei Madrac, musica funk, elettronica per giovani che speriamo possano essere buona parte del pubblico che assisterà alla nostra festa. Dopo di questo avremo alle 20 un'intervista con lo sportivo e avremo ospite Giovanni Knapp che è il primo e anche unico vincitore di una tappa del Giro d'Italia bellunese. Sarà intervistato da un giornalista e quindi insomma cercheremo di vedere le differenze tra il Giro del 66 che non sbaglio lo vide vincitore e che tra l'altro passò per Belluno e quello odierno attuale. Dopo il Giovanni Knapp avremo il gruppo folk Nevegal che farà un'esposizione e un'esibizione dei suoi balli tipici e poi per continuare alle 21 il pezzo forte è il concerto dei Macis Mobile che quindi presenteranno anche le loro ultime canzoni e un concerto che insomma dovrà scaldare parecchio il pubblico fino alla fine e a seguire ancora musica con DJ Vita D e vedremo insomma fin quando il pubblico e i presenti avranno voglia di divertirsi e di ballare. Naturalmente organizziamo un stand gastronomico, abbiamo scelto di presentare i prodotti tipici e quindi avremo Pastin in collaborazione con l'ASCOM e la Camera di Commercio è un prodotto locale, è un prodotto che quindi insomma pensiamo che i turisti anche quelli che verranno da fuori vorranno provare e degustare e poi naturalmente birra, patate, bibite e quant'altro. Quindi la Proloco aspetta tutti, castionesi, bellunesi e tutti gli appassionati di ciclismo il 23 maggio sul pian delle feste a Castion troverete indicazioni per arrivare e per parcheggiare dalle 16.30 fino a notte inoltrata musica, divertimento, gastronomia e festa speriamo di accogliere con una bella piazza rosa tutti i ciclisti e gli appassionati.